Sine con la notizia della settimana qui nel comune di Rosetegli Abruzzi è che il comune, l'amministrazione comunale ha stipulato un accordo con l'ASMEL, il comune Rosetegli è tra i primi, tra i 220 enti in totale nel territorio italiano, a stipulare questo accordo per la selezione del personale. Sì, sul discorso del personale gli enti locali sono in grande difficoltà in questo periodo perché c'è grande bisogno di rafforzare la macchina amministrativa per potenziare i funzioni di gramma, ma d'altro canto ci sono delle difficoltà oggettive, logistiche, tant'è che come vedete sono molto pochi i comuni che riescono a bandire concorsi e quindi si va alla ricerca e alla richiesta di gradatori di altri enti. Sono in fase di svolgimento già dei concorsi per figure tecniche e amministrative, vigili, assistenti sociali, ingegneri e geometri, ma al tempo stesso non ci siamo voluti precludere questa opportunità che è una scelta, una facoltà di attingere ad una graduatoria nazionale e chi ha voluto partecipare, è stata una graduatoria pubblicata per oltre un mese sul sito di ASMEL e su diversi siti di concorsi e ribadisco, chi vuole partecipare ai concorsi lo sapete meglio di me, è tutti i giorni alla ricerca di queste opportunità. I comuni dal canto loro possono scegliere quindi tecnicamente di aderire quando ci fosse una graduatoria appetibile, ovviamente se si riscontrasse una figura professionalmente che fa capo a quella che fa bisogno del personale. Insomma è un modo per accelerare dei tempi, il tempo è un fattore importante per la mia amministrazione, a che la macchina amministrativa da qui ai prossimi anni sia pienamente efficace ed efficiente. Se ne va al momento quante figure mancherebbero per rendere efficace al 100% la macchina organizzativa e amministrativa del comune? C'è un rinnovamento, quante figure oggi è difficile dirlo, sicuramente un passo alla volta bisognerà arrivare a far sì che tutti i settori dell'ente abbiano figure, diciamo, dirigenziali, figure quadri o figure che poi siano operative, cercando di andare anche verso quella esternalizzazione dei servizi sul territorio per i quali, e lo stiamo vedendo in questi giorni con la gestione del verde, a volte il privato riesce a completare in maniera organica e veloce quello che il pubblico non riesce a fare.